ok ragazzi probabilmente la gente penserà Giulia è totalmente impazzita è a Los Angeles ma carica le foto mentre è al mare alle Maldive l'ho fatto solamente perché in tantissime mi state chiedendo dei modelli indossati dei miei costumi così almeno avete la possibilità di vederli ok ho fatto questa pazzia per voi almeno potrete vederli tutti quanti nel frattempo vi metto il link diretto vi mando un bacio grande vi ringrazio per il primo sold out e ci aggiorniamo tra poco adesso leggendo per vedere insomma le reazioni di cosa pensate e cosa non pensate dei costumi mi è capitato un commento per quanto riguarda il mio culo piatto ragazzi lo sapete tutti come c'è il culo sono state 24 ore in tv logico che è la prospettiva la gamba un po' alzata comunque cagate a parte vedo che vedo che comunque vi piacciono io sono stra felice perché veramente a questo progetto ci tengo tantissimo e quindi grazie 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 ok finalmente noi andiamo a goderci un po' di LA e voi come sempre se sapete consigliarci se sapete suggerirci qualche postino da parte nostra è sempre ben accetto soprattutto tatuatori noi vogliamo farci un tatuaggio qui per ricordare questo viaggio questa esperienza perché sarà molto lungo voi vedrete e cosa succede? beh comunque se sapete consigliarci un tatuatore ragazzi mi continuate a chiedere tutte quante di questi occhiali li ho messi poco fa anche in una foto sono di spettere pazzesche più che altro io non sopporto gli occhiali sono leggerissimi quindi ragazzi qui c'è una partita in colpo ragazzi è un delirio naturalmente lui mi ha buttato nel cuore del delirio grazie a tutti